È quasi riduttivo dire che in quel dissesto si respira aria stracarica di entusiasmo per il primo passo di quell'affascinante progetto destinato a portare alla creazione di un grande carosello sciistico dell'alta pusteria. A giudicare dalla risposta della cittadinanza ci sono davvero grandi prospettive per l'idea firmata niente di meno che da Franz Senfter. Eh sì, è stato lui l'imprenditore a 360 gradi per eccellenza a voler raccogliere sotto lo stesso tetto le società di gestione degli impianti Croda Rossa, Monte Elmo e Baranci. E questo è solo l'inizio di quello che dovrebbe portare ad una nuova iniziativa imprenditoriale finalizzata ad incrementare ulteriormente l'appeal turistico di quel paradiso che sono le Dolomiti di Sesto. La prima mossa strategica dopo la nascita della Dolomiti di Sesto SPA è creare il collegamento fisico tra le stazioni sciistiche di Elmo, Croda e Baranci. Alla House Sexton tutto esaurito all'incontro pubblico organizzato per illustrare e spiegare il progetto in questione. Soprattutto vogliamo dare informazioni, dare informazioni alla gente, al popolo, agli abitanti di Sesto, di San Candido, tutta la valle Alta Pusteria. Su quale punto siamo col progetto e che cosa abbiamo intenzione di costruire e di realizzare. Con il collegamento in progetto siamo in grado di realizzare un bellissimo carosello fra Montelmo, Stiergarten, cioè sarebbe Giardino del Toro in italiano, la Croda Rossa e il passo Monte Croce, così un sportivo, un sciatore riesce a godere le piste dal Montelmo fino in Croda Rossa, fino al passo Monte Croce e dietro, sciando quasi tutta una giornata. Dal sindaco di Sesto Pusteria al presidente dell'associazione turistica locale, per arrivare fino al responsabile della scuola di sci, tutti indistintamente hanno accolto come manna dal cielo, questo progetto. Per il turismo sul luogo, ma non solo nel paese di Sesto, ma in tutta la regione dell'Alta Pusteria, questo collegamento sciistico sarebbe senz'altro la garanzia di poter proseguire nell'attività invernale del sci alpino e di garantire anche le stagioni invernali in questo paese e in questa regione. Il Comune di Sesto è più che altro vivere al turismo, perciò per noi è importantissimo che il turismo anche d'inverno riesca a continuare bene e non perdere ogni anno un certo percentuale come è successo adesso negli ultimi anni. Come maestri di sci e scuola di sci vediamo una nuova possibilità di lavoro proprio anche per i giovani, noi in Valata abbiamo negli ultimi anni sei maestri giovani nuovi che hanno il brevetto di maestro di sci per cui per loro naturalmente si aprono nuove porte. A giudicare dalle altre interviste realizzate a Sesto dal nostro Manfred Feichter, anche la popolazione, dalle vecchie alle nuove generazioni, vede positivamente questo progetto. Sarebbe ora, è veramente già ritardato l'unificazione del Montelmo con la Coda Rosa perché ormai abbiamo, a Sesto siamo in ritardo. Abbiamo un pezzo di natura molto bello che è importante che non lo tocchiamo troppo però penso per una pista e per un impianto penso che per noi è molto molto importante per la gioventù sia che anche per i turisti che vengono prossimamente a Sesto. Ma la mia opinione è che sarebbe molto importante per tutte le nostre valli in modo che possiamo guardare al futuro prospettandoci appunto un futuro migliore per tutti quanti, per il turismo e per tutti noi giovani che viviamo in queste valli senza dovere poi andarcene. Insomma adesso le premesse ci sono davvero tutte e il grande carosello delle Dolomiti di Sesto da vecchio sogno tra non molto sarà una nuova realtà.